Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video delle bad words che è già avviata questa partita Perché? Perché sì, perché ho detto perché cominciare dall'hub quando si può cominciare già in partita È un ragionamento del c***o, però va bene A parte le scherzi ragazzi, non lo so perché ho iniziato da qua, cioè mi andava di iniziare da qua e quindi l'ho fatto Eccomi qua, vorrei andare a farmi una bella rasciata da qualche parte Perché la partita è iniziata da un po' e io non ho fatto niente in tutto questo Cioè proprio sono uno dei team migliori, sono un... non uno dei team, un... come cacchio si chiama la persona che sta nel team? Vabbè non mi viene, fate finta che l'ho detto però Va bene, sono uno di quelli migliori e basta Oh, ok, siamo arrivati allo spot dei diamanti e ce ne sono ben sei ragazzi, sei sono abbastanza dai Tanto vari team già stanno arrivando al centro, beati loro Intanto vorrei fare un po' di team upgrade, tipo la reinforced armor e it's a trap Almeno stiamo a posto Ah, grazie, grazie, tantissimi blocchi inutili, grazie mille Va bene, con questi blocchi inutili, oh my god, perché laghi? Fai mille fps e poi laghi? Va bene raga, noi intanto andiamo al prossimo spot di diamanti Almeno siamo tranquillozzi con le risorse E non ci sta andando nessuno, ok Raga, se mi vedete con la felpa è perché ho bevuto coca cola freddissima Poi il latte freddissimo e poi un cacchio di calippo che è freddo e quindi ho freddo Anche se fuori forse farà caldino, oh my god, ha laggato di connessione Tra lag di dpc senza motivo e lag di connessione anche quello là senza motivo Stiamo proprio messi bene a sta bad words Bene ma non benissimo Ok raga, cominciamo a fare le cose serie Se serie si possono chiamare Comunque passiamo a prenderci un po', cioè facciamoci questa armatura qua Però vorrei aspettare queste 12 cose, 12 gold, almeno stiamo un po' tranquilli Intanto qua vorrei upgradeare questo, ok E anche altre cose Qua me ne servono 8, cacchio, è vero Però potremmo risolvere tutto facendo Questa qua non l'ho mai fatta, la cosa che ti rigenera la vita Però potrebbe essere interessante, vabbè metto minor fatigue Così almeno ci mettono un pochino più di tempo Raga vi dico già che questa qua non sarà una delle partite migliori Perché, ah questi qua già stanno andando all'attacco Va bene, comunque vi stavo dicendo Non so se sarà una partita delle migliori Perché veramente da un botto che non gioco E tutti i video che avete visto sono pre-registrati Guardate quello che cerca di nascondersi inutilmente Guardatelo va, guardatelo Tutto fiero, mo caccia un arco E poi voglio vedere bestemmie Non caccia un arco Non cacciare un arco Non cacciare un arco No, sono 50.000 Quindi è meglio andare indietro Forse la cosa migliore sarebbe Spaccare il ponte e basta Però, boh I don't know, I don't know Vero, I don't know Ehi, ehi, ehi Ti spacco tutta la testa Guardalo va, guardalo Scappa si è morto Perfetto Mi sta bene, mi sta benissimo Oh, no, no, no Sono stupido Sono stupido Va bene, va bene Succede Succede veramente Poche volte però succede Anche lui ha respawnato Grande Intanto loro qua Stanno andando veramente Tantissimo spediti E noi potremmo buttarli giù comodamente Perché non abbiamo assolutamente niente Ok Allora Ok, qualcuno è entrato Qualcuno è entrato Ma la gente non vede i trap trigger Sono cieca la gente Grande Dando noi siamo tornati poveri Vabbè Succede Adesso il mio interesse È andare a prendere quei diamanti Lì giù Se ce ne sono Però sta arrivando gente Quindi è meglio tornare indietro E prendere anche quelli Così almeno possiamo farci le spade Con sharpness Che è utilissimo Anche se è una spada del cacchio Quindi proprio Sarebbe la cosa migliore Però qua ce ne stanno due E sta arrivando uno dei rossi Uno dei rossi Raga Uno dei rossi El Uccidetelo Che no Non muore Vabbè che sto lagga un botto Io Ok Ci hanno appena tritato il letto Questa partita Finirà molto molto velocemente Non è che me lo sento È proprio così Siamo stati il primo team Ad essere stato distrutto Non mi era mai capitato Vabbè C'è sempre una prima volta per tutto Dai possiamo andare verso di qua Speriamo che non hanno fatto caso Ai diamanti Ya 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 Prendi tutto Sette dai Me ne manca uno Devo tornare di là Senza morire male Vai però Adesso è tutto coso dei rossi Quindi È un po' difficile la faccenda Ci troviamo con uno di meno Però Potremmo farcela Che c'ha L'anti knockback Quello Per quanto lagga Boh Non lo so È diventato una statua Un main gold Con sette diamanti Non ci vado di là Sciottalo ti prego Sciottalo Vabbè Qua abbiamo i legolas falliti Dai dovrebbe essere respawnato Un altro diamante Si spera Speriamo veramente di sì Perché mi serve Ok Adesso facciamo la nostra Sharpness world Non sono proprio il miglior giocatore Di ste modalità Però Vabbè Me la capicchio Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo proprio tutta Adesso andiamo di qua Facciamoci l'armatura Con 12 gold Le altre 12 Vorrei lasciarli Al mio team Ce l'ho fatta Dopo un po' Però Non ce li lascio Perfetto Sei proprio bravo Vabbè Ci lascio Sti un po' di blocchi Ecco qua Che adesso Veniamo distrutti male Chiamami No Fammi un cenno Fammi un fischio Boh Tanto ho notato Che loro già hanno L'armatura Della madrioska E noi siamo rimasti qua E non è veramente Una cosa positiva Perché stiamo proprio messi male Facciamoci un po' di blocchi Vorrei fare anche altre cose Però Non so cosa Cioè vorrei fare un piccone Però Credo che Per la situazione Come stiamo Proprio Un piccone È l'ultima cosa Che mi viene in mente Di fare Però Va bene Allora Prendiamo questi diamanti Che sono tre Cacchio Potrei andare all'attacco Fortissimo Volendo Però Boh La cosa migliore Sarebbe tipo fare una cosa In tre Tutti in team Tutti insieme Quella sarebbe veramente Una cosa ok Però Non è il mio caso Perché Non ho nessuno Bravo a giocare Le bad words Cioè almeno bravo Quanto me Che non sono bravo Cioè non ci giocano proprio Gli amici miei Come amici miei Intendo Pingu E basta Quindi Boh Non lo so Comunque arriverà presto Una cop Con una persona Che gioca anche le bad words Non voglio spoilerarvi niente Comunque per il fatto Che vi parlavo Di caricare un video Ogni tanto Quando mi pare Volevo farci proprio Un vlog Che lo spiega Ovviamente Sarà il vlog Del sabato Quindi Le cose saranno In dettaglio Ma Parlerò anche Della settimana Oh my god Quello mi ha sgamato E c'è un arco In mano Quindi non è il massimo Ecco qua uno dei verdi Che sta per andare A uccidere uno dei miei E forse Ce la farà anche E infatti Ce l'ha fatta Vieni qua Dai Vieni qua Dai Dai Vieni qua Vieni qua Bravo Bravo Ok Non siamo morti Incredibile Siamo rimasti da soli Quindi tanto vale Che No Tanto vale niente Tanto vale scappare Fortissimamente forte Perché Stanno arrivando E sono anche in tanti E forse mi shotteranno Con un arco E io morirò Malissimo Dai Ultimo attacco ai rossi Anzi Unico attacco ai rossi Ok Sono stato accecato Fortissimamente forte Dai Spacca tutto Spacca tutto Non mi dica C'ha il legno Si c'hanno il legno Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi No Sei un cacchio di guastafeste Basta Non gioco più a ste modalità Per tutta la mia vita